Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Il moloch del capitale sacrifica tutto. La vicenda della Honeywell mi riempie di angoscia e, ripeto quanto già detto dalla Cardinale Bassetti, stigmatizzo il comportamento delle multinazionali che pensano solo al profitto. Sono le parole dell'Arcivescovo di Pescara Penne, Soccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, dopo la decisione dell'azienda americana di chiudere il sito di Atessa in provincia di Chieti per delocalizzare l'impianto in Slovacchia. Mi auguro che le autorità competenti intervengano, proseguito Monsignor Valentinetti, che ci sia un sussulto di civiltà perché svendere il lavoro e la dignità del lavoro è un fatto molto grave. Questo è un sistema che ha messo l'uomo al di fuori dei suoi interessi, ma ha la finanza e i soldi. Dopo il crollo del muro di Berlino c'è a tutti gli effetti un'ideologia capitalista e se pensiamo che anche i mezzi di informazione sono dominati dal grande capitale, si capisce perché è difficile creare una coscienza su queste materie per invertire la rotta. Tutto è ancora un lavoro in corso, la pulitura del pavimento da ultimare, la nuova ultimazione da integrare e da mettere a punto, i delicati interventi finali sui preziosi stucchi della Cappella del Santo. Ma passo dopo passo la Basilica ricolle maggio all'Aquila, fortemente danneggiata dal terremoto del 2009, si avvia verso la fine dei lavori di restauro post-sisma. La promessa della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Aquila è che entro dicembre nella chiesa si celebrerà la messa. Un orgoglio scrive in un post su Facebook la sovrintendenza diretta da Alessandra Vittorini per tutti coloro che hanno accompagnato questi due anni di rinascita. La sovrintendenza dell'Aquila è Cratere, progetto e direzione, lavori, gli esperti degli Atenei di Milano, Roma e l'Aquila, gruppo tecnico-scientifico di supporto alla progettazione, l'ENI, finanziamento, l'impresa Arcas che ha svolto i lavori, i tecnici, i restauratori, le maestranze e tutto il personale di supporto. Entro la fine dell'anno l'unità operativa di endoscopia avanzata di gastroenterologia dell'ospedale di Penne staccherà il biglietto delle 2.000 prestazioni per la diagnosi delle patologie del pancreas. L'ecoendoscopia diagnostica e interventistica guidata dal dottor Alessandro Della Sciucca con l'aiuto della dottoressa Mariangela Spezzaferro opera Penne del settore dal 2012. Ed è un unicum in Abruzzo, c'è una cosa unica in Abruzzo. Si tratta di un'equip che si occupa delle lesioni benigne e maligne del pancreas, ma anche delle vie biliari, dell'esofago, dello stomaco e della duodeno e del retto con svuotamento sempre per via endoscopica di grosse raccolte fluide con conseguente enorme beneficio per i pazienti in termini di sintomatologia dolorosa con degenza brevissima e in regime di day hospital. Diagnosi, stadizione e terapia precoce delle neoplasie del tratto biliopancreatico permettono cure più veloci ed efficaci proprio con le moderne pratiche endoscopiche che risultano meno invasive e più pronte e fanno del reparto di Penne un luogo avanzato della sanità abruzzese. Anche nei campi è emergenza per la forte ondata di maltempo che ha colpito l'Abruzzo in questi ultimi giorni, dopo mesi di siccità, in particolare con pioggia violenta particolarmente che ha creato blocchi stradali, frane, lagamenti e qualche blackout elettrico coinvolgendo anche l'agricoltura. Nelle campagne, spiega la Col di Retti, soprattutto nella provincia pescarese, si sono verificati allagamenti ingenti che hanno compromesso il futuro di cereali appena seminati e ortaggi invernali. Difficoltà di circolazione sia nelle aree interne del pescarese sia in quelle costiere ma anche mancanza di elettricità o allagamenti in alcune stalle. La provincia pescarese e le zone costiere restano finora le aree maggiormente coinvolte da un punto di vista agricolo, ma Col di Retti evidenzia che la pioggia non ha portato comunque solo disagi e danni. L'arrivo delle precipitazioni, dice Col di Retti Abruzzo, è anche importante per dissetare i campi, resi aridi dalla lunga siccità che ha caratterizzato l'anno, che sta per concludersi e per ripristinare le scorte idriche nei terreni, nelle montagne, negli invasi e nei fiumi a secco. Il problema non è la caduta dell'acqua, ma la quantità improvvisa e potente della precipitazione intervallata anche da grandine improvvisa. L'assessore regionale alla formazione della Regione Abruzzo, Andrea Gerosolimo, e della Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, affiancati dalla Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Tommaso Dirino, ieri a Pescara in Regione hanno incontrato i referenti degli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo per fare il punto della situazione sulle imprese, sulle iniziative intraprese e sulle potenzialità del settore. Al centro del confronto in particolare la programmazione delle attività di formazione, l'andamento dei percorsi già avviati e le prospettive future alla luce delle nuove tendenze del mercato del lavoro. Con gli organismi di formazione, ha detto Gerosolimo, abbiamo avviato da tempo un dialogo proficuo e costruttivo con la finalità di mettere i giovani nelle condizioni non solo di entrare la più velocemente possibile nel mondo del lavoro, ma di entrarci preparati e qualificati. Non a caso, ha concluso, nello scorso mese di aprile abbiamo attivato ben 16 percorsi formativi che non tarderanno a dare frutti. Oggi è venerdì 17 novembre e la Chiesa celebra la memoria di Santa Elisabetta d'Ungheria religiosa. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a padre Franco Rapacchiale, don Giovanni Campoverde e don Rocco Mincone. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, coperto nel resto del pomeriggio e nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 11 a 13 gradi e 20 da deboli a moderati. E nelle zone interne, cielo coperto con temperature da 10 a 12 gradi e 20 deboli. il mare è previsto da poco mosso a mosso. Ed era l'ultima notizia per questo nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.